L'inno d'Italia è diventato ufficiale, l'inno di Mameli. È bellissimo, sono contentissima. Lo sapeva prima che non era ufficiale? No, non lo sapevo, però per me era il mio inno, perciò per me è sempre stato ufficiale. Qualche parola la sa? Eh beh, Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, del modicipio se cinta la testa. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, del modicipio se cinta la testa. Poi non me la ricordo più. Rappresenta comunque l'Italia, è una cosa importante, veniva cantato anche nelle scuole dai bambini prima che cominciasse la lezione a scuola. È una composizione classica bellissima. Dovrebbe rimanere, dovrebbe essere continuata da far ascoltare anche nelle scuole, far capire chi è che l'ha scritto, perché l'ha scritto e non è il momento in cui l'ha scritto, che comunque ha un significato anche per la nazione stessa italiana. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, dell'elmo di scippo si è cinta la testa, dove è la vittoria. Basta. Lei lo sapeva che non era ufficiale? No. Cioè, in pratica tutti gli italiani, in pratica, sanno benissimo che l'inno d'Italia dovrebbe essere il rappresentante di tutti gli italiani, l'inno rappresentante di tutti gli italiani. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, con l'elmo di scippo si è cinta la testa.